Oggi parliamo di energie, un tema di grande attualità. Qual è la sua visione sul tema del problema dell'approvvigionamento energetico? Il problema non è tanto quello di continuare ad approvvigionarsi di fonti fossili, quanto di decidere finalmente di essere autonomi attraverso fonti veramente rinnovabili. Teniamo presente che attraverso solare, eolico, idrico si può ampiamente coprire tutto il fabbisogno. Il problema è investire in questa direzione e di investire su tutto il territorio, perché a differenza delle fonti fossili o del nucleare, le fonti rinnovabili hanno bisogno di un ampio territorio e di fonti e di sistemi di approvvigionamento, anche di prospettiva. Per esempio bisogna avere un accumulo. L'accumulo attraverso vari sistemi può garantire di coprire completamente. Però stiamo attenti a non fare l'errore di passare dal gas russo al gas di altri paesi o al biogas che ha gli stessi problemi. In Polesine si sta parlando di riprendere le trivelazioni in Adriatico. Su questo punto cosa ne pensa? È assurdo. Primo perché Venezia, il delta del Po, Ravenna hanno già dato ampiamente. Ma poi perché vuol dire rimanere ancorati a una visione sbagliata, quella delle fonti fossili che hanno provocato i cambiamenti climatici, che hanno determinato la siccità, gli allagamenti, che stanno determinando una situazione insostenibile per tutto il paese.